Noi festeggiamo lo stesso, visto il momento? È meglio sempre festeggiare con i nostri ovini kind che li abbiamo comprati ieri, eh? All'Iper va benissimo! Vediamo cosa c'è dentro, dai! Spacca tutto! Cosa c'è? Ma si sente qualcosa se scuoti? Si sente Federico o no? Ah non è che te l'ha andato vuoto lo vino, no? Dopo pranzo apriamo il nostro vino. Super sorpresa! Super sorpresa, allora ci sarà una sorpresione enorme! Dai aprilo che sono curiosa! Come faccio? Con la buca? No! Prendi un coltello! No! No, no, il suo lo apre lei, sa fa! Ha sei anni! Il tuo latte lo mangi, vai! Poi prendetelo il mignos! Vai, vai! Ognuno ha il suo, è certo! Poi sono i primi, ne arriveranno degli altri! Questi sono, li abbiamo presi così! Eh? Pasqua è lontana, Pasqua c'è ancora quasi due mesi! Vai dal tuo, vai dal tuo! Apriamolo, la mega sorpresa! Posso farvi vedere anche il mio? Ma è certo! Fai vedere anche il tuo! Questi sono i primi! Apri il cameraman! Adesso il cameraman apre il ruovetto! È durissimo! Cosa c'è dentro? Aiuto, tira, viva! Che bello! Ha caduto tutto! C'è un fantastico mini pony! Mini pony! Bellissimo! Ah, non buttarmi via il colcino, che mistero, che lo devo bucare e farò per addestrare i cagnolini a trovare il tartufo! Ti sembra, ma qualsiasi cane può andare a trovare il colcino, basta allenarlo bene! E' lonti! Sì, adesso te lo monta! Facciamo vedere i nostri amici che è? Abbiamo preso questo! Bello, colorosa! Quella, la preferita! Questa pony qui, bellissima! Adesso facciamo vedere, Francesco, il suo ovino! Ecco, non sul piatto che abbiamo appena pranzato, noi non facciamo vedere alla gente cosa abbiamo mangiato! Non è tanto bello! La carne alla pittaiola, vabbè, si può dire, non è roba strana, anche molto buona, è venuta molto buona! Un po' un manco, un copiletto! Esatto! Dai, vediamo questo, questo, questo è colorato, epicolor! Sembra una pastiglia, quella che prendeva la nonna! Mettile qua, mettile qua, mettile qua! Un minion! Un minion! Ma c'è un minion così, vedo, le gambe l'abbiamo aperto, c'è il culetto all'aria! Eh, un minion! Guarda che te lo regala, Francesco! No, io l'ho regalato il minion! Ma sì, cosa ne fai, te hai dieci anni di minion, dai! Dai, dagli alla piccolina! Ecco qua che si ricompone l'uovo, bene, dai, questi sono i primi ovetti, dai, poi dopo da qui a passo ci mancano due mesi, li abbiamo presi per così, eh? Eh, perché un po' di cioccolato non fa mai male, un pochino fa bene, senza esagerare, vero Federica, eh? Un pochino, dopo ci si davano i dentini, mi raccomando! Ma non so poco! Va bene! E dai, mandateci anche voi, cosa avete trovato, i commenti su cosa avete trovato nelle vostre primi ovetti, che tanto lo so che li aprono anche gli altri prima, eh? Poi dopo ne tengono uno, ma... Mettete hashtag superfasqualone! Superfasqualone! E via, e via! Ciao! Ciao a tutti i nostri amici, ciao!